La neurologia è una specializzazione della medicina che si occupa della diagnosi e del trattamento di patologie che colpiscono il cervello, il midollo spinale e i nervi. Le competenze del neurologo sono la fisiologia e l'anatomia del sistema nervoso centrale e periferico, le patologie e disturbi a suo carico, le cure da adottare e gli esami diagnostici per approfondire le origini di un disturbo. In caso di necessità, collabora con altre figure mediche come il pediatra, l'oncologo, il fisiatra. Ogni neurologo a sua volta può essere a sua volta specializzato nel trattamento di patologie più specifiche in ambito pediatrico, geriatrico ed oncologico. È bene valutare col proprio medico di base una visita specialistica presso un neurologo quando si riscontrano problemi a carico del sistema nervoso che riguardano la sfera cognitiva, il sonno, l'equilibrio, dolori cronici, traumi a danno del sistema nervoso. La sintomatologia che deve essere presa in considerazione per valutare un consulto neurologico si può presentare con nausea e vertigini, stanchezza e dolore alla testa, tremori, perdita di sensibilità agli arti, cambiamenti d'umore, difficoltà ad articolare le parole, svenimenti, confusione mentale e stordimento, convulsioni, paralisi di una parte del corpo. Stai cercando il neurologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di UMA Innovation.